Cari concittadini, ho ritenuto doveroso comunicare con voi direttamente e anche e soprattutto dopo aver visto quelle scene di ieri sera con migliaia di persone che hanno preso d'assalto i treni per il sud Italia. Un comportamento sconsiderato che rischiamo di pagare carissimo. Mi risulta che al momento ci sono diversi nostri conterranei che stanno rientrando a casa. Allora in primis e alle loro famiglie mi rivolgo con questo video. A seguito dell'ordinanza del Presidente della Regione, tutti coloro che rientrano in Sicilia di una delle zone rosse hanno l'obbligo di registrarsi contattando intanto il medico di famiglia, collegandosi al sito costruiresalute.it o al Comune telefonando dalle 8 alle 18 al numero 331 30 45 200 o scrivendo un'e-mail a protezionecivile chiocciolacomune.modica.rg.it. Chi non lo fa commette un reato penale che verrà punito con la reclusione fino a tre mesi, oltre alla multa. Invito tutti i cittadini a collaborare se necessario segnalando in osservanze alle disposizioni di legge alle autorità competenti. È fatto obbligo a tutti, in caso di sintomi, di non regarsi al pronto soccorso ma di segnalarlo al medico di famiglia. Col nuovo decreto vengono chiuse con effetto immediato tutte le palestre pubbliche e private, le piscine e i centri benessere. Chiuse anche i luoghi di culto e sospese le cerimonie religiose e compresi i funerali. Da domani 9 marzo tutti gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico per effettuare la disinfezione ad eccezione della polizia locale, il protocollo e l'anagrefe stato civile che restano aperti solo per motivi di urgenza. Se ci teniamo alla nostra salute siamo chiamati tutti a affrontare sacrifici. Queste misure così severe sono necessarie a contenere e diffondersi del virus a patto che tutti le osserviamo scrupolosamente. A cominciare da sottoscritto che eviterà qualsiasi incontro pubblico e privato fino alla cessata emergenza. Mi rivolgo anche ai ragazzi che in questi giorni non possono andare a scuola. Evitate i luoghi di assembramento. Non prendete questa chiusura scolastica come un'occasione per incontrarvi e stare con gli amici. Se no tutti questi sacrifici non serviranno a niente. Confido nel senso di responsabilità di tutti i modicani. È il momento di unire le nostre forze, di lasciare le parti e le divisioni e andare avanti. Solo così riusciremo a superare questo momento così difficile e guardare al futuro con ottimismo.